È stata presentata oggi a Papa Francesco la nuova versione italiana della Bibbia Parola di Dio, traduzione interconfessionale in lingua corrente, frutto della collaborazione tra l'Alleanza Biblica Universale, Società Biblica in Italia e la Casa Editrice LDC. Uno sforzo significativo per un progetto interconfessionale, sostenuto dalla CEI e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che, ha ricordato il Papa, vi ha dato la possibilità di intraprendere un cammino comune e vi ha permesso di affidare il cuore agli altri compagni di strada, superando sospetti e diffidenze, con la fiducia che scaturisce dall'amore comune per la parola di Dio. La traduzione fatta fra evangelici e cattolici della Bibbia in lingua corrente argentina ha fatto tanto bene e fa tanto bene, ha aggiunto poi il Pontefice, riferendosi alla sua esperienza come arcivescovo di Buenos Aires. È un'idea buona perché la gente può capirla, la gente è semplice, perché è un linguaggio vero, proprio, ma vicino alla gente. Dobbiamo compiere ogni sforzo, ha concluso Papa Francesco, affinché ogni fedele legga la parola di Dio e per questo vi incoraggio a proseguire sul cammino intrapreso, per far conoscere sempre meglio e per far comprendere sempre più profondamente la parola del Dio vivente.